Benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Diamo spazio intanto alle notizie di cronaca. Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Mazzara hanno deferito in stato di libertà l'autorità giudiziaria un giovane di origini tunisine di 30 anni responsabile di aver danneggiato, mandando in frantumi il lunotto posteriore con un grosso masso, un'autovettura in uso al comune di Mazzara. A conclusione di un'attività d'indagine svolta mediante l'attività investigativa, tramite l'analisi di diversi sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del luogo dell'evento e zone limitrofe, i carabinieri hanno individuato il ragazzo che approfittando dell'oscurità della notte e delle strade deserte per via della tarda ora e del coprifuoco, mentre percorreva a piedi le vie del centro, precisamente davanti all'aula consigliare in via Carmine, raccoglieva da terra un grosso masso e lo scagliava sull'unotto dell'auto mandandolo in frantumi. Per quanto riscontrato i carabinieri hanno deferito il soggetto cercando di capire nel contempo se altri danneggiamenti avvenuti la stessa notte con lo stesso modus operandi su autovetture parcate a poca distanza siano riconducibili proprio al giovane tunisino. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Alcamo hanno messo in atto una serie di servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al rispetto delle normative di contenimento del covid-19. Nel territorio di Calatafimi i carabinieri della locale stazione durante un servizio di perlustrazione, passando davanti un noto bar del paese e notando due soggetti intenti a consumare sull'uscio del locale delle bevande, decidevano di intervenire per contrastare il rispetto delle normative anti-covid vigenti. Fatto ingresso all'interno dell'esercizio commerciale sono stati sorpresi anche altri soggetti che contro ogni regola consumavano prodotti al bancone. Scattavano così le sanzioni per i presenti, mentre a carico del bar veniva applicata la prevista chiusura per due giorni. Nell'ambito dei servizi volti a prevenire reati predatori, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo hanno deferito in stato di libertà un giovane studente del posto, ritenuto responsabile del reato di resistenza pubblico ufficiale. I militari, notato l'atteggiamento nervoso e guardingo del ragazzo, decidevano di sottoporlo a controllo nei pressi della via Caruso. Il giovane, senza alcun apparente motivo, si dava alla fuga a piedi, perdendo autonomamente l'equilibrio e rovinando poco dopo al suolo. Bloccato ed identificato dagli operanti, veniva condotto al locale pronto soccorso per le cure del caso. All'esito degli accertamenti ed espletate le formalità di rito, il giovane veniva deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Occupiamoci adesso, attraverso i servizi montati dalla nostra abile regia, delle notizie che riguardano la città di Marsala e la politica. Altro importante passo avanti nell'iter burocratico per la realizzazione dell'asilo nido di Contrada Bosco. Ieri il sindaco Massimo Grillo ha infatti firmato la relativa convenzione stipulata fra il comune di Marsala e l'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali della regione siciliana. La realizzazione del nuovo asilo nido di Contrada Bosco è stata finanziata con l'utilizzo di fondi europei del PORFESR. È stata la precedente amministrazione a richiedere l'inserimento nella graduatoria delle opere ammissibili a finanziamento con fondi europei, a seguito dell'avviso di interesse relativo alla presentazione di progetti per interventi infrastrutturali, a titolarità pubblica per l'implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia. Abbiamo firmato questa convenzione con il dirigente Rosolino Greco, in virtù della quale possiamo adesso ottenere il finanziamento, sottolinea il sindaco Massimo Grillo. Subito dopo indiremo la gara d'appalto per dare presso al versante nord questa importante struttura di grande valenza sociale. Il progetto complessivo prevede una spesa di 720.000 euro, 500 dei quali verranno finanziati attingendo a fondi europei. La restante parte sarà a carico del bilancio comunale. Il nuovo asilo nido accoglierà complessivamente circa 30 bambini, una sezione da 0 a 12 mesi, l'altra per i piccoli di età compresa tra 13 mesi e 3 anni. L'asilo nido incontrato a Bosco andrà ad aggiungersi a quelli del centro urbano di Amabilina-Sappusi che ospitano complessivamente 96 piccoli e all'asilo nido del versante sud incontrato a Sant'Anna, operativo da settembre 2019 e che accoglie una quarantina di piccoli. La riqualificazione della struttura incontrata a Bosco, oltre ai necessari vani e servizi, prevede anche alcune aree esterne, tra cui un giardino organizzato e attrezzato come ambiente educativo per i bambini. Con apposito decreto del Presidente della Regione Nello Musumeci, i certificati di esenzione ticket per reddito in scadenza lo scorso 31 marzo sono stati prorogati d'ufficio al 30 giugno. Il provvedimento riguarda gli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate. Qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, l'assistito ha l'obbligo di non avvalersi dell'esenzione. Lo ricorda il Sindaco Massimo Grillo, che aveva sollecitato la Regione anche su indicazione del consigliere Flavio Coppola. A Mazzara uno striscione con la scritta La verità per Denise, realizzata dal Comune di Mazzara, verrà fisso oggi nel Palazzo Comunale Cavalieri di Malta, lato Lungomare, alla presenza dei genitori di Denise Pipitone, Piera Maggio e Piero Pulizzi. Si tratta del secondo striscione, dopo quello realizzato dalla Curia, che lo ha esposto davanti al Palazzo Vescovile di Mazzara, per cercare di risalire alla verità sulla scomparsa di Denise Pipitone troppi depistaggi, soprattutto nelle prime ore d'indagine, secondo quanto appurato negli ultimi giorni. Prima di congedarci da voi, spazio allo sport. Consolita pagina sportiva del venerdì all'interno del nostro TG News, parlando di calcio, occupandoci della nuova giornata calcistica del campionato di eccellenza con la formula rivisitata e ben strutturata da parte della federazione per permettere la conclusione del campionato. Andiamo alla lettura degli incontri che si giocheranno tra sabato 24 e domenica, 25 aprile. Andiamo quindi alla lettura degli incontri che si giocheranno tra sabato e domenica. Marsala Canicatti, sabato 24 aprile alle ore 16 e 30. Gli altri match, sempre alle 16 e 30. Acragas-Nissa, Mazzara-Cus-Palermo, Oratorio-Sancire-Giorgio-Don Carlo-Misilmeri-San-Cataldese-Dolce-Onorio-Folgore, domenica 25 aprile. Andiamo alla lettura della classifica, con due squadre in vetta in quanto hanno vinto le prime due gare di questa nuova formula del torneo di eccellenza. San Cataldese-Nissa con sei punti, seguono Folgore e Mazzara con quattro, Canicatti con tre, Don Carlo-Misilmeri due, Cus-Palermo e Acragas uno, chiudono la classifica, Oratorio-Sancire-Giorgio e Marsala con zero punti. La squadra all'Iribetana, come ben saprete, gioca con tutti i ragazzi della Juniores degli allievi, una scelta da parte della società per premiare questi ragazzi che bene avevano fatto nelle categorie di pertinenza. 8 a 0 il passivo nella prima gara contro la San Cataldese, meno eclatante il secondo risultato a Caltanissetta contro la Nissa, dove gli azzurri hanno anche segnato il gol della bandiera, perdendo per quattro reti ad uno. Adesso un altro importante avversario per la categoria, il Canicatti con la squadra di Ingargiola che si prepara a cercare di fermare per più minuti possibili l'incedere degli avversari. Marsala che in queste due gare è poi naufragato soltanto nella ripresa, riuscendo a tenere bene il campo nella prima frazione di gioco di entrambi i match. Per quanto concerne il discorso societario, invece diciamo che è sempre tutto in alto mare e spunta anche lo scandalo calcio scommesse con soprattutto una partita nel banco degli imputati, un Marsala Troina che terminò 0 a 1, dove c'era la possibilità di illecito, che però non è stato consumato per l'opposizione dell'allenatore Nicola Terranova. Grazie della visione prestata. Vi ricordo sempre di seguirci sul 297 del Digitale Terrestre live sulla nostra pagina Facebook. Andate ad informarvi anche sulle ultimissime attraverso la pagina Facebook e il nostro sito. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.